Renzi ha chiamato il Premier Conte per raccontarli, per annunciare la nascita dei nuovi gruppi. Che si saranno detto? Probabilmente Renzi ha detto a Conte non ti preoccupare Giuseppe stai sereno, che insomma ci riporta ad antiche scelte. Però al di là della battuta, io davvero penso che tutto questo sia abbastanza patetico, che sia penoso vedere una politica serragliata nel palazzo, che fa e disfa a suo piacimento sulla pelle della gente, come se non dovessero rappresentare qualcuno, come se non avessero degli italiani che li hanno mandati in Parlamento per fare alcune cose, che hanno puntualmente tradito. Renzi si occupa solo di tattica, lo dice nelle sue interviste, gli interessa solamente la tattica, non crede in niente che non sia cercare di tornare nel gioco dei grandi perché non gli va giù di non contare più niente. Devo dire che è un tema che non mi appassiona.